Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a realizzare uno dei progetti presenti all'interno del nostro video corso di javascript che potete trovare ed acquistare su Udemy. Questo è il secondo progetto della sezione riguardante Ajax e tutto ciò che è javascript asincrono. Prima di iniziare il progetto vero e proprio vi mostro come scaricare la cartella del progetto. Innanzitutto andate nel link che troverete in descrizione che vi porterà alla repository di github contenente tutto il codice dei progetti del nostro corso, quella che stiamo vedendo in questo momento. Qui troverete, oltre ai vari progetti, anche i link che rimandano ai video completamente gratuiti riguardanti html e css che sono già presenti sul nostro canale. Inoltre troverete anche i link corrispettivi per ogni progetto che viene realizzato durante il nostro corso completo. Basterà cliccare sopra uno di questi per vedere il risultato finale dei nostri progetti. A questo punto potrete scaricare la cartella andando su Code e premendo su Download Zip. Altrimenti potrete tranquillamente clonare questa repository utilizzando nel vostro terminale il comando git clone ed incollando il link che vi verrà fatto copiare premendo su questo pulsante. Una volta scaricata la cartella non vi resterà nient'altro che aprirla in Visual Studio Code in questo modo e all'interno della cartella Ajax troverete la cartella 02 Random User. Quindi iniziamo questo nuovo progetto in cui realizzeremo la pagina che state vedendo in questo momento. Cosa fa questa pagina? Questa pagina ci mostra le informazioni e le generalità di alcuni utenti presi in maniera totalmente random. Ogni volta che riaggiorniamo la pagina o che premiamo sul pulsante Random User ci verrà mostrato un utente differente. Per ogni utente visualizzeremo un'immagine, il nome e una serie di bottoni. Ognuno di questi bottoni nasconde un'informazione riguardante l'utente che ci viene mostrato. Quindi avremo la password, il numero di telefono, avremo la via, avremo l'età, la mail ed infine il nome. Ma come facciamo ad avere questi dati? Come avrete già immaginato li riceviamo da un API. Un API che si chiama Random User API. Ma prima di andare a conoscere meglio queste API direi che possiamo dare uno sguardo come sempre alla struttura del progetto. All'interno della cartella Ajax troverete la cartella denominata 02 Random User, all'interno del quale troveremo un po' di file. Allora vi spiego come sono stati suddivisi i file riguardanti questo progetto. Allora innanzitutto noterete che c'è una cartella denominata setup e questa cartella sarà la cartella che conterrà i file su cui dovrete andare a lavorare voi. Troverete l'index HTML che conterrà la struttura della nostra pagina. È una struttura molto semplice, banale da capire. Abbiamo i vari container dentro i quali mostriamo l'immagine, abbiamo i paragrafi in cui stamperemo le varie informazioni e abbiamo poi un div che contiene tutti i pulsanti riguardanti appunto le informazioni che andremo a mostrare sullo schermo. Inoltre troverete un file denominato index.html che sarà il file in cui andremo a scrivere tutto il codice e il solito file css pieno di tutte le regole che ci permettono di rendere la nostra pagina incredibilmente bella. Diamo uno sguardo alla cartella source dentro la quale troveremo alcuni file .js. Questo perché? Perché durante il corso del progetto andremo a dividere il nostro codice in diversi file, ognuno avrà una specifica mansione, in modo da iniziare a vedere come vengono suddivisi i file in un ambiente di lavoro o comunque in un progetto un po' più serio. Quindi chiudiamo il nostro style e al momento tutti i file.js contenuti in questa cartella sono vuoti perché sarete voi a doverli andare a scrivere. Quindi chiudiamo setup e vi mostro che i restanti file presenti all'interno della cartella sono esattamente gli stessi che abbiamo appena visto ma con il codice già scritto. Quindi dentro la cartella source troveremo i vari file con il codice già presente. Come al solito cosa serve questo? Serve a far sì che se durante lo svolgimento del progetto abbiate qualche dubbio, vi perdiate qualche pezzo, potete andare a controllare e confrontare il vostro codice con un codice già scritto. Ma non perdiamoci in chiacchiere, avremo tempo durante il progetto di vedere come sono suddivisi i nostri file e capire per quale criterio dividiamo il codice e direi che possiamo passare ad andare a cercare e leggere la documentazione dell'API che stiamo per andare ad usare. Vi ricordo che tutte le volte in cui utilizzerete un'API, cercare la documentazione, leggerla e comprenderla sarà fondamentale ed essenziale, è un passaggio che non potrete saltare. Quindi spostiamoci nel browser, andiamo su Google e cerchiamo random user API. Ovviamente è il primo risultato che vi capita. Come potete notare la grafica che ho scelto non è a caso, è proprio quella dell'API stessa e come prima cosa ci fiondiamo sulla documentazione. Come al solito da qui possiamo leggere tutte le info che ci servono per l'utilizzo, ci viene mostrato come fare una chiamata, ci viene mostrato l'endpoint a cui fare la chiamata e ci viene mostrato anche la risposta che ci aspettiamo di ricevere se la chiamata va a buon termine. Quindi sappiamo che l'endpoint a cui dovremo fare la chiamata è questo, quindi adesso lo vado a copiare e inserendolo nella barra ci verrà restituita la risposta alla nostra chiamata appunto. Quindi vediamo che ci viene restituito un oggetto che ha come proprietà results che è niente meno che un array di oggetti, l'uno ne è stato dentro l'altro. Ci viene restituito anche info ma che è un oggetto che a noi non servirà. A noi servirà andare a prendere ovviamente il nome composto da nome e cognome, la location che sarà composta dal nome della via e dal numero civico, ci servirà prendere la mail, ci servirà prendere la password ed infine ci servirà anche il link all'immagine che mostreremo. Torniamo sulla nostra documentazione e scorrendo, oltre che mostrarci eventuali errori che ci possono ritornare durante la chiamata, ci viene mostrato che possiamo effettuare le chiamate aggiungendo dei query parameters, quindi dei parametri alla nostra query, per ad esempio in questo caso ricevere risposte di utenti di genere femminile, come questo esempio qui. Oppure andando giù possiamo vedere altre ricerche che si possono fare in maniera più dettagliata. Prendiamo questo ad esempio. e così facendo ci vengono ritornati solo utenti che hanno la password che ha una lunghezza compresa tra 1 e 16, quindi andiamo a cercare password, come potete vedere è tra 1 e 16. Se io qua vado a cambiare e inserisco tra 1 e 6, ci verranno restituiti solo utenti che hanno password che non hanno più di 6 caratteri. Bene, possiamo riprendere esattamente da dove ci eravamo lasciati. Quindi andiamo a selezionare l'endpoint a cui andremo a fare le chiamate, ci spostiamo nel nostro editor, andiamo nel file di index e creiamo una costante che chiameremo url, in questo modo, che conterrà una stringa appunto contenente il nostro endpoint. Come seconda cosa, come al solito, dobbiamo andare a selezionare dal DOM i nodi che ci interessano da modificare. Questa volta, per selezionare gli elementi, invece che farlo manualmente uno ad uno, scriveremo una funzione che, tra l'altro, vi potrà tornare utile in futuro. Quindi, invece che andare a selezionare, come abbiamo sempre fatto, ad esempio, con document query selector, in questo modo, andremo a scrivere una funzione che lo farà al posto nostro. Quindi cosa faremo? vi chiederemo get element, element, che sarà la nostra arrow function, che riceverà un parametro, che chiameremo selection, ad esempio, e che cosa farà? Dovrà eseguire questo comando al posto nostro. Quindi, scriviamo const element e sarà uguale a document dot query selector e, come selettore, passeremo il nostro parametro selection. Inoltre, aggiungeremo una condizione e diremo che se element esiste, quindi se abbiamo un element, allora faremo il return dello stesso element. Altrimenti, ci servirà che ci venga restituito un errore. Come facciamo ad averlo? Scriviamo true new error, in questo modo, e nelle parentesi, come stringa, passiamo il messaggio che ci interessa, che ci venga restituito all'interno della console. Quindi, in questo caso, possiamo scrivere no elements, element selected. Così. Quindi, una volta scritta questa funzione, possiamo tranquillamente eliminare il nostro document query selector ed invocare get element, passandogli come parametro il selettore che ci interessa. Quindi, salviamo, possiamo tranquillamente spostarci nel nostro progetto. Apriamo la console, che ovviamente sarà di lato, la spostiamo in basso. Vediamo che ci viene dato un errore in console. Ci viene detto cannot access get element. Questo perché, i più attenti l'avranno già notato, questo perché noi invochiamo alla riga 3 una funzione che viene definita alla riga 5. Quindi, così facendo, il compilatore non troverà la funzione e ci restituisce l'errore. Quindi, ci basterà spostarla in basso, salviamo e in console non ci viene stampato nulla. Questo perché abbiamo passato come parametro un selettore che esiste realmente. Ma basterà, ad esempio, cambiare con image e all'interno del nostro codice nessun elemento ha come classe user image. Salvando, possiamo vedere che ci viene restituito in console l'errore che abbiamo scritto noi, quindi no elements selected. Quindi, possiamo notare che funziona tutto correttamente. Se invece facciamo un console log di img, ci viene restituita appunto img. A questo punto prenderei la funzione che abbiamo appena scritto, la taglierei e la inserirei in un modulo separato. Allora, nessuno vi obbliga a farlo, nessuno vi obbliga a separare i file come faccio io, come farò io in questo progetto. Esistono sviluppatori che scrivono tutto il codice in una pagina, mentre ci sono altri sviluppatori che dividono i progetti in 10.000 file separati. Nessuno dei due è un approccio sbagliato come nessuno dei due è un approccio giusto. Dovete agire e suddividere i file come meglio pensiate che sia. Ma mi permetto di darvi un consiglio. Quello che cerco di fare io di solito è tenere nello stesso file tutte le funzioni, tutta la logica che ha uno scopo comune. Quindi, sì, dividere in moduli, ma fare in modo che ogni modulo abbia della logica che fa riferimento o che comunque serva ad uno scopo comune. Questo permetterà a voi di sapere immediatamente dove sono le cose che cercate, dove sono le funzioni, le costanti, dove avete dichiarato ciò che cercate. E soprattutto, questa prassi vi tornerà utile anche quando lavorerete in un progetto ma non sarete gli unici a metterci mano. E quindi, separando in modo intelligente le varie logiche del progetto, sarà comodo anche per chi non ha mai letto il codice trovare le informazioni che gli servono leggendo semplicemente i nomi dei file. Detto ciò, cercate di capire qual è l'approccio che preferite, ma durante la durata di questo progetto io agirò in questo modo. Nessuno vi obbliga a seguirmi, il progetto funzionerà anche se scrivete tutto in questa pagina di index, ma vi consiglio di iniziare ad avere questo approccio alla scrittura dei progetti. Ma basta chiacchiere, dicevo, abbiamo tagliato la nostra funzione e la andiamo ad incollare in un altro file. Il file in questione è il file getElement in cui incolleremo la nostra funzione. Una volta incollata la funzione sarà essenziale esportarla e quindi scriviamo export, in questo caso esporteremo in maniera default, che cosa? GetElement. Adesso ovviamente dovremo importarla nel nostro index, ma prima di farlo ci spostiamo nell'index HTML e ci andiamo ad assicurare che nel tag script, in cui indichiamo il file da cui andiamo a prendere la logica, ci sia questo attributo type e che abbia come valore module. Questo è essenziale affinché tutti i nostri export ed import funzionino correttamente. Adesso che ci siamo accertati anche di questo, andiamo nel nostro index e andiamo ad importarla. Quindi andiamo a scrivere come prima cosa di import e siccome abbiamo esportato in maniera default la nostra funzione, possiamo importarla cambiandole il nome. In questo caso io metterò solo get e indichiamo con from e una stringa esattamente da dove andiamo a prendere il nostro file. Quindi entreremo nella cartella src e cercheremo il file getElement.js. Salviamo e in questo modo possiamo così facendo selezionare i nodi del DOM che ci interessa modificare. Quindi prendiamo questa riga, la duplichiamo due volte e andremo a selezionare title che avrà come classe user title. Andiamo a selezionare value che è indovinato un po' avrà come classe user value. E inoltre andremo a selezionare tutti i bottoni. Per questa selezione dovremo purtroppo usufruire del classico document query selector all perché non abbiamo scritto una funzione che ci permetta di selezionare una serie di nodi in una volta sola. Noto con piacere che abbiamo un errore. Questo è dovuto al fatto che l'import è stato fatto correttamente, l'export pure. Ah, come al solito non so scrivere. Ok, il nostro errore sparisce. E comunque dicevo che utilizzeremo query selector all in quanto potremo implementare la nostra funzione o scriverne un'altra, però non è questo il caso siccome ci serve una volta sola. E comunque sia selezioniamo con query selector all la classe icon. Come ormai ben saprete il metodo query selector all ritorna una node list che è un array like object che ha determinati metodi. Adesso ve li mostro al volo facendo il log btns. Eccola qua, una node list che ha determinati metodi ma che non ha tutti i metodi che si possono avere su un array vero e proprio. Sì, possiamo utilizzare il for each, ma se ad esempio volessimo andarne ad usare altri come ad esempio il map, non possiamo farlo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trasformare questa node list in un array. Come possiamo fare? Beh, è molto semplice. Ci basterà selezionare questo pezzo di codice, inserirlo in un array. Quindi stiamo dichiarando un array che contiene document.query selector all e che seleziona icon. Ma prima di questo andiamo ad inserire i tre puntini, ovvero lo spread operator. Cosa ci permette di fare questo operatore? Ci permette di creare una copia della nostra node list all'interno del nuovo array che stiamo istanziando. Salvando, possiamo subito notare che questa volta ci viene restituito un array che ha tutti i suoi metodi. Quindi se ad esempio noi volessimo andare a utilizzare un map piuttosto che un join, piuttosto che un qualsiasi altro metodo, possiamo farlo in quanto abbiamo fatto una copia della node list all'interno di un nuovo array. Ottimo! Ora che abbiamo selezionato tutti i nodi che ci servono, possiamo iniziare a lavorare sulle funzionalità della pagina. Come abbiamo già detto, a noi interessa che sia il caricamento della pagina che alla pressione del pulsante vengano caricati e successivamente mostrati utenti differenti ogni volta. Quindi quello che dovremo andare a fare è innanzitutto ricevere i dati dal server, scegliere quali dati utilizzeremo in quanto non utilizzeremo l'intera risposta che ci viene restituita, che è questa qui. Quindi non utilizzeremo tutte le informazioni che ci vengono date, ma dovremo andarle a selezionare in base a quello che ci serve e successivamente fare in modo che le informazioni vengano mostrate correttamente alla pressione dei pulsanti corrispondenti. Quindi le fasi che dovremo affrontare sono due, fecciare i dati e selezionarli inizialmente e successivamente dovremo mostrarli correttamente sullo schermo. Ma detto ciò cominciamo. Iniziamo dichiarando una funzione che chiameremo show user e la dichiariamo come una arrow function, in questo modo. Scusate, ho sbagliato. In questo modo. Per il momento questa funzione avrà il compito di stampare in console un ciao. Questa funzione sarà la funzione che darà vita al nostro progetto, che ci permetterà appunto sia di fecciare i dati che di mostrarli e quindi come abbiamo detto poco fa vogliamo che questo accada in due eventi differenti, ovvero al caricamento della pagina e quindi per ottenerlo ci basterà prendere l'oggetto globale window, aggiungere un event listener e dirgli che all'evento DOM content loaded si invochi la funzione show user. Salviamo e aprendo la console possiamo vedere che riaggiornando ci viene stampato ciao e anche questo, ecco qua, è l'array btn, possiamo eliminare questo nostro log. Vediamo che ogni volta che riaggiorniamo ci viene stampato ciao. Questa funzione però deve essere invocata anche al click sul pulsante. Quindi noi possiamo duplicare questa riga, selezionare btn, che sembrerebbe non esistere, perché nella lezione precedente mi sono dimenticato di selezionarlo. Quindi lo facciamo immediatamente, usufruiamo dalla nostra funzione get e lo selezioniamo tramite la classe, andiamo a controllare velocemente, ecco qua, button xs, perfetto. Quindi scriveremo button xs e gli diciamo che al tipo di evento che non sarà DOM content loaded ma sarà click, vogliamo invocare show user. Salviamo e premendo sul pulsante come potete notare stampiamo in console una decina di ciao. Bene, fatto ciò possiamo tornare al nostro codice, possiamo eliminare questo console log e quindi come dicevamo prima gli step da compiere sono due, saranno fecciare i dati, scriviamo fetch data e successivamente display data. Quindi per fecciare i dati dichiariamo una nuova funzione che chiameremo get user. Sarà anch'essa un arrow function ma a differenza di show user sarà una chiamata asincrona, quindi mettiamo async. All'interno di questa funzione avremo un'altra costante che chiameremo response, che sarà uguale ad await, fetch e feceremo dal nostro URL. Successivamente andiamo a capo, facciamo il console log di response, salviamo e possiamo vedere che prima di salvare dovremmo anche invocarla, quindi get user, in questo modo, salviamo e vediamo che al caricamento della pagina ci viene restituita la nostra response, questa qui. Questi sono i dati con cui andremo a lavorare ma come ormai saprete benissimo, fetch ritorna i dati correttamente ma per far sì che siano in un formato utilizzabile dovremo usare il punto json. Quindi torniamo nella nostra funzione get user, creiamo una nuova costante che questa volta chiameremo data e data cosa sarà uguale? Sarà uguale a response punto json. siccome anche il metodo json ritorna una promise ci servirà utilizzare la keyword await e a questo punto possiamo fare il console log di data. Salviamo e ci viene restituito un bello oggetto che ha come proprietà info che per ora non ci interessa e results che è un array. Dentro questo array abbiamo tutti gli oggetti che contengono tutte le informazioni di cui avremo bisogno. Bene, ora che abbiamo i nostri dati dobbiamo solo decidere come destrutturare l'oggetto in modo da ottenere nel miglior modo tutte le info che ci serviranno. Quindi come prima cosa direi che possiamo eliminare questo console log, mettere un commentino e scriviamo destrutturare. Ottimo. E come prima cosa creare appunto una costante che chiameremo person e che sarà uguale a cosa? Sarà uguale a data punto results. Quindi entriamo in questo array e ci servirà il primo elemento dell'array quindi results con indice 0. Ora possiamo fare il console log di person. Salviamo e vediamo che ci viene dato il nostro oggetto perfetto e pronto per l'utilizzo. Adesso possiamo iniziare con la vera destrutturazione. Quindi eliminiamo questo console log e iniziamo. Sicuramente potrei agire destrutturando tutto da person in questo modo qui. Quindi potrei eliminare person e scrivere ad esempio phone e fare sempre il log di phone. Vedere che mi verrebbe stampato, mi verrebbe restituito il dato corretto. Però abbiamo un problema in quanto tornando indietro e loggando di nuovo person possiamo notare e per farvelo notare ve lo faccio vedere su uno schermo un po' più grosso che le nostre informazioni in alcuni casi sono nestate l'una dentro l'altra. Ad esempio dentro la proprietà login troviamo la password che ci servirà. Dentro location troviamo street che sarà composta da name e da number e così via. Quindi purtroppo il precedimento non sarà così semplice o più che altro sarà abbastanza semplice ma non potremo fare tutto in una sola riga. Quindi adesso sapendo questo dobbiamo agire con calma e farne una alla volta. Iniziamo sicuramente eliminando di nuovo questo console log e direi di iniziare dagli oggetti che sono meno nestati di tutti. Quindi dando uno sguardo così alla veloce direi che sicuramente possiamo prendere phone e sicuramente possiamo prendere email. Quindi cosa facciamo? Scriviamo const e tra le graffe prendiamo phone e email. Da cosa? Da person. Person. Ottimo. Adesso direi di selezionare la immagine però prima scusate ma io voglio avere il console log di person in modo da vedere cosa succede e cosa stiamo andando a selezionare. E vi ripeto andiamo a prendere picture e ci servirà la proprietà large. Quindi come facciamo a selezionarlo? Beh facile scriveremo const sempre aperte graffe e selezioneremo large da cosa? Da person. Picture. In realtà il nome large a noi non piace e con questa scrittura possiamo rinominare large in image. Successivamente andremo a prendere la password. Quindi scriviamo const sempre tra le graffe password che sarà uguale a person.login. Adesso pensiamo al nome quindi dovremo prendere dalla proprietà name sia first che last. Come facciamo? Molto semplice. Scriviamo const e sempre tra le graffe selezioniamo first e last. da cosa? Da person.name. Successivamente andiamo a selezionare l'età. Dove si trova l'età? Eccola qui. Quindi dobbiamo accedere a dob e successivamente ad age. Come possiamo farlo? Possiamo scrivere const. const. Andiamo a prendere dob e stando age in questo modo possiamo selezionarlo da person. Altrimenti avremmo potuto scrivere se non vogliamo scriverla così age da person.dob. come preferito. Una scrittura vale l'altra. Successivamente l'ultima cosa che ci resta se non sbaglio è appunto la street che dovrebbe trovarsi in location e successivamente in street. quindi come facciamo scriverlo? Scriviamo const. Destrutturiamo street da cosa? Da person.location e successivamente da street andremo a destrutturare sia number che name. salviamo. E così facendo abbiamo selezionato tutte le informazioni che ci servono. A questo punto la nostra funzione è pronta. Fa tutto ciò che ci serve. Perciò possiamo scrivere il return della nostra funzione. Posso finalmente cancellare il console.log e scriviamo return. Che cosa returneremo? returneremo un oggetto che conterrà tutte le info appena destrutturate. Quindi avremo innanzitutto image. Avremo phone. Avremo email. Avremo password. Avremo age. Avremo street. che sarà composta e quindi per scriverla utilizzeremo delle template literal string. Quindi con i backtick e scrivendo dollaro e aprendo le graffe possiamo inserire la nostra variabile all'interno della stringa. Quindi inseriamo number. e successivamente con uno spazio riscriviamo dollaro graffe e all'interno metteremo name della street. Number non me lo prende perché qui ho sbagliato a scrivere. Perfetto. E oltre a street dovremo restituire anche name che sarà uguale sempre a una template literal string che sarà uguale a dollaro graffe di first e poi spazio sempre dollaro graffe last. E' molto importante che i nomi delle proprietà che ritorneremo da questa funzione siano uguali ai valori degli attributi dei vari button data label. Quindi avremo name, email, age, street, phone, password. E come potete notare noi ritorniamo un oggetto che ha le proprietà che si chiamano nello stesso modo. Questo sarà fondamentale per un secondo momento che vedremo probabilmente nel prossimo video però tenete a mente questa cosa. Ora però torniamo sulla funzione show user e ragioniamo un attimo. Sappiamo che get user ritorna una promise e quindi per utilizzare la sua risposta dovremmo scrivere un punto del all'interno del quale ad esempio un punto den all'interno del quale ad esempio potremmo prendere data e fare il console log apposto di data. Siccome get user ritorna una promise è fondamentale utilizzare il punto den ma in alternativa se non si volesse utilizzare il punto den potremmo dichiarare questa funzione con sync e dichiarare all'interno della funzione una costante person che sarà uguale a cosa ad await di get user. se andiamo a stampare person possiamo notare che ci viene restituito lo stesso identico oggetto che avevamo con il metodo precedente ovvero con il punto den quindi adesso possiamo fare un piccolo recap abbiamo scritto una funzione che ci servirà a fecciare i dati e successivamente mostrarli a schermo e oltre a questa abbiamo scritto una funzione get user che ci permette di comunicare con l'API di fecciare i dati dal nostro endpoint di renderli utilizzabili e successivamente di destrutturarli accedendo alle proprietà e alle informazioni che ci interessano facendone un return di un oggetto che contena tutte esse per poi appunto utilizzarlo nella nostra funzione show user ora come ultima cosa per questa lezione direi di spostare tutta questa logica in un nuovo modulo quindi tagliamo tutta la funzione get user in questo modo tagliamo brutalmente apriamo la nostra cartella source che è già aperta e andiamo nel file fetch user incolliamo essenziale scrivere l'export della nostra funzione che si chiama get user in questo modo salviamo torniamo in app e add essenziale in ugual modo sarà l'import di get user from punto slash src fetch user se non sbaglio esattamente punto js salviamo e notiamo che ci viene restituito un errore che proviene dal nostro file fetch user ah ho capito qual è il motivo il motivo è molto facile in questa funzione fetchiamo i dati da un url che però abbiamo lasciato scusate che però abbiamo lasciato in questo file quindi tagliamo add incolliamo anche questo in questo modo adesso salvando le nostre funzionalità non sono state intaccate premendo su random user ci vengono restituiti nuovi utenti e quindi siamo pronti per la prossima lezione in cui andremo a far visualizzare a schermo i dati che abbiamo appena catturato benissimo ora che siamo in grado di ricevere i dati e lo facciamo in maniera corretta è arrivato il momento di mostrarli sullo schermo per prima cosa dichiariamo un'altra funzione sempre come un arrow function questa volta la potremmo chiamare display user display user ok e sarà appunto un arrow function in questo modo e diciamo che attenderà un parametro che chiameremo person che rappresenterà nient'altro che l'oggetto contenente tutte le informazioni prese tramite la chiamata API quindi qua l'abbiamo chiamato person per comodità lo chiameremo person anche all'interno della nostra funzione che per adesso come logica avrà solo quella di stampare il nostro parametro successivamente ci spostiamo nella funzione show user invochiamo display user e come parametro gli passiamo person che è appunto la costante che riempiamo tramite get user salviamo e direi di innanzitutto commentare questo console log salviamo e vediamo che in console ci viene stampato il nostro bello oggettino contenente tutte le informazioni necessarie affinché il funzionamento della nostra pagina sia completo quindi cancelliamo ciò che è inutile e possiamo iniziare a lavorare sulla nostra funzione display user allora la prima cosa che vogliamo andare a mostrare diciamo che può essere l'immagine quindi cosa facciamo accediamo alla nostra img e tramite la proprietà src noi la settiamo su person punto image salviamo e notiamo che nel nostro progetto che possiamo ingrandire un po' nel nostro progetto viene mostrata l'immagine del nostro utente nel posto corretto torniamo nella nostra funzione e facciamo la stessa cosa con il nome il nostro nome starà nel nodo value che è questo paragrafo quindi prendiamo value e tramite text content setteremo person punto name salviamo e vediamo che ci viene stampato anche il nome successivamente andiamo a prendere title sempre text content e sarà uguale ad una stringa con my name is in questo modo visualizziamo correttamente immagine e nome subito dopo vogliamo fare in modo che il primo dei pulsanti abbia di default la classe active quindi cosa facciamo prendiamo l'array btns selezioniamo l'elemento che è all'indice 0 quindi il primo elemento e tramite class list punto add metodi che abbiamo già visto diverse volte aggiungiamo la classe active in questo modo salviamo e aggiornando potete notare che l'icona dell'utente quindi la prima icona ha la classe active e quindi è diventata di un colore diverso questo perché se nel nostro file andassimo a cercare la classe active non active link ma active vediamo che l'unica regola è appunto il colore giallo successivamente vogliamo che premendo sugli altri bottoni vengano mostrate le restanti informazioni del nostro utente come facciamo sempre nella funzione display user prendiamo il nostro array btns e lo iteriamo tramite un map ricordate che non nella lezione scorsa siamo in quella prima avevamo tramite questa scrittura con lo spread operator trasformato una node list in un array proprio per poter utilizzare questo benedetto metodo map e a cosa ci servirà questo map ci servirà perché potremmo prendere appunto il nostro array btns mapparlo utilizzare il metodo map al quale passeremo una callback che avrà un parametro che chiameremo btn che farà riferimento ad ogni bottone presente in questo array per ogni bottone creeremo una costante che chiameremo label e cosa vogliamo raccogliere in questa costante vogliamo andare a prendere il nostro data label per ogni bottone come possiamo fare per far ciò ci basterà scrivere btn punto data set punto label scusate non so che cosa si è uscito dicevo scriviamo data set punto label in questo modo salviamo e possiamo fare un bel console log delle nostre label salviamo e vediamo che in console ci vengono stampate le nostre label a questo punto vi faccio notare che il nostro oggetto person contiene come proprietà le stesse identiche label che abbiamo qui abbiamo password abbiamo phone abbiamo street abbiamo age abbiamo email abbiamo name adesso capirete per quale motivo questa cosa ci tornerà molto utile perché sapendo questo possiamo scrivere un event listener al posto di questo console log quindi scriviamo btn punto add event listener aspettiamo un evento di tipo click e questa volta non invocheremo nulla ma scriveremo una callback e in questa callback faremo il console log di cosa di person label in questo modo vi voglio mostrare cosa viene stampato se scriviamo così quindi se premiamo sulla prima icona ci verrà restituito il valore della proprietà all'interno dell'oggetto person che ha come nome label la label di turno quindi se premiamo qui ci verrà restituita email perché la label di questo pulsante è email e noi qui andiamo a stampare person email ovvero email di quest'utente stessa cosa per l'età stessa cosa per la street stessa cosa per il numero di telefono stessa cosa per la password è stato quindi essenziale avere queste label nominate nello stesso modo in cui abbiamo nominato le proprietà dell'oggetto altrimenti non avremmo mai potuto accedervi in questo modo che è molto semplice ora che abbiamo visto questo direi che possiamo continuare la scrittura del codice quindi eliminiamo questo console log all'interno della callback dell'event listener e cosa facciamo prendiamo title sempre context content settiamo il valore a che cosa a una template literal string sempre in cui scriveremo my e invece che mettere name che abbiamo fatto poco fa inseriremo label quindi ogni volta cambierà anche questo valore is successivamente prenderemo value useremo text content e lo setteremo a che cosa person label che abbiamo appena visto salviamo attendiamo un attimo alla risposta del server vediamo che premendo sui vari pulsanti sia il title qua in alto che il valore qua sotto cambiano in maniera corretta quindi se premiamo sul telefono ci sarà scritto my phone is e il numero di telefono stessa cosa per gli altri valori come ultima cosa come avrete notato quello che vorremmo andare a fare è settare la classe active al pulsante che viene cliccato perché per adesso rimane attiva solo sulla prima icona quindi come possiamo fare questo molto facile anche questo sempre nella nostra callback dell'event listener prendiamo il bottone di turno accediamo alla class list e aggiungiamo active salviamo e vediamo che in realtà non funziona funziona correttamente aggiungiamo la classe active ma non funziona come vorremmo che funzionasse realmente noi vorremmo che al click di una nuova icona tutte le altre perdessero la classe active e che è solo quella cliccata la acquisisse come possiamo fare anche questo è molto facile ed intuitivo ci spostiamo prima del class list add e cosa facciamo prendiamo l'array btns utilizziamo di nuovo il metodo map all'interno del quale ovviamente scriveremo una callback come parametro avrà btn e questa funzione cosa si occuperà di fare prenderà per ogni btn accederà alla class list utilizzerà il metodo remove e toglierà active quindi cosa succede che la nostra pagina viene caricata con il primo bottone con la classe active perché lo settiamo in questo punto qui ogni volta che andiamo a cliccare quindi ogni volta che scaturiamo questo evento oltre a settare il title il value con i valori corretti mappiamo tutto l'array dei bottoni quindi cicliamo per tutto questo array rimuoviamo la classe active a tutti per poi aggiungerla solo al bottone che abbiamo selezionato come potete vedere funziona correttamente c'è solo un ultimo problema come potete vedere se rimaniamo su questa icona e per sbaglio o volendo premiamo su random user quando ci verrà restituito l'utente successivo oltre alla prima icona che è giusto che sia con la classe active anche l'ultima icona che abbiamo lasciato selezionata avrà la classe attiva come possiamo fare per risolvere questo problema ancora più semplice ci basterà copiare questa riga spostarci sempre prima di inserire la classe active all'inizio della funzione la incolliamo qui e in maniera molto semplice salvando vi posso mostrare che selezionando un'icona e cambiando l'utente l'icona selezionata sarà solo la prima bene adesso funziona tutto correttamente possiamo eliminare i console log che non ci servono possiamo salvare e direi che come ultimissima cosa possiamo prendere questa funzione tagliarla spostarci nel file display user ed incollarla subito dopo export così non ce lo dimentichiamo quindi export default di display user salviamo torniamo nel nostro index facciamo l'import di display user from from punto slash src display user punto js se non sbaglio si chiama così esatto qua ci viene restituito un errore perché perché noi in questa funzione ci diamo img a value a title a buttons che abbiamo lasciato in index quindi possiamo tranquillamente tagliarli collarli qua prendiamo anche il nostro array colliamo qua salviamo ci viene dato un errore perché ho dimenticato di inserire punto js nell'import e ci viene dato un altro errore perché perché in display user abbiamo utilizzato la funzione get ma non l'abbiamo importata quindi copiamola da qui la incolliamo e quindi adesso nel nostro file display user abbiamo l'import alla funzione get dal file get element che ci serve per selezionare gli elementi che abbiamo portato in questo file da index e la nostra funzione display user ora salvando vediamo che abbiamo un ultimissimo errore noi in questo momento ci troviamo nel file display user e stiamo importando da search quindi siamo già dentro questa cartella non ci serve riscriverla salviamo e vediamo che funziona tutto correttamente l'ultimissima cosa che ci rimane da fare è prendere questa riga di codice che come potete vedere utilizziamo per due volte e portarla in un modulo esterno quindi come facciamo la copiamo ci spostiamo nel file remove active e scriviamo direttamente export default function che chiameremo remove active siccome servirà a rimuovere la classe active e passeremo un parametro che chiamiamo items che sarà l'array appunto dovremo passare e cosa faremo incolliamo la riga di codice che abbiamo copiato dal nostro file sostituiamo btns con items ed ecco che il gioco è bello che è fatto adesso andiamo in display user importiamo remove active from punto slash remove active js punto js e al posto di queste due righe la invochiamo passando come array l'array btns salviamo attendiamo il caricamento della mia magica connessione e vediamo che il funzionamento dei pulsanti è corretto le funzionalità della nostra pagina sono corrette e quindi possiamo dichiarare ufficialmente concluso anche questo progetto ci si vede al prossimo grazie a tutti